A chi non è addentro i labirinti della legge potrebbe sembrare una beffa. Nella seconda udienza per il processo ai responsabili della tricomex galvanica a Bassano per presunti decessi da cromo killer, il giudice Debora Di Stefano ha deciso per il rito abbreviato e per l'ammissione come parti civili delle sole famiglie di alcuni operai scomparsi. Esclusi dal processo tutti gli altri, enti, comitati e movimenti costituitosi in seguito alle morti sospette che danni combattono per ottenere giustizia, tra cui Legambiente e il comune di Cittadella. Per loro ormai non esiste altra scelta se non il ritiro, poiché qualsiasi altro passo li priverebbe anche del semplice diritto di rivolgersi all'Inail. Un processo in salita quindi per l'accusa che già non era riuscita a far passare una prima perizia che dimostrava la conseguenzialità tra l'esposizione al cromo e la malattia e che pure successivamente ha visto una doppia richiesta di archiviazione dello stesso pubblico ministero. Sembrava che il cambio di magistrato, dopo la rinuncia del procuratore Giovanni Parolin e la presa in carico del faldone da parte del procuratore capo in persona, il dottor Carmelo Ruberto, potesse dare una svolta al processo con una nuova perizia, ma anche questa mossa è stata fermata dal GIP che ha considerato l'iniziativa il rituale. Per il procedimento che veda la sbarra ai due legali rappresentanti della Tricom e l'ex sindaco di Tezze, tutti accusati solo per citare il reato più grave di omicidio colploso plurimo e aggravato, l'unica speranza oggettiva rimane nella decisione di due famiglie di altrettanti congiunti che decidendo di aprire un procedimento civile in cui richiedere altre indagini potrebbe riservare sorprese e rovesciare l'attuale quadro processuale. Se ne riparerà il prossimo 20 luglio.